Ogni qualvolta troviamo una notizia interessante, ci piace raccontarvela. Oggi è proprio il caso di Tina e Gianni Sperti, grandi opinionisti di Uomini e Donne. Ormai famosi da tanti anni, ormai al fianco di Maria De Filippi da oltre 20 anni, quindi Tina e Gianni sono sempre lì a commentare ciò che accade durante la trasmissione. Nel bene e nel male sono sempre pronti a dire la loro e sicuramente sono i due opinionisti più famosi d'Italia. Nello studio di Uomini e Donne non mancano i colpi di scena, ultimamente anche Ida Platon e Riccardo Guarnieri ci stanno regalando quello più clamoroso dell'intera stagione. Il cavaliere pugliese è tornato a far parte del parterre maschile del tronovere e questo è scatenato nella Bresciana, una valanga di ricordi. Se che Gianni e Tina non siano d'accordo sul ritrovo dei due lo sapevamo, ma quello di cui si parla oggi di Gianni e Tina non c'entra nulla con Riccardo e Ida Platano. Si parla del loro conto in banca. Ebbene sì, sono uscite delle indiscrezioni proprio riguardo i loro cashè, quindi ciò che loro due guadagnano durante la puntata. Vi ricordiamo che le indiscrezioni sono solo indiscrezioni in quanto tali vanno prese con le pinze. Tina e Gianni guadagnerebbero dai 2 ai 4.000 euro a puntata. E questo diciamo che sarebbe ovviamente un cashè dal capogiro visto il ruolo nella trasmissione nota Uomini e Donne di Maria De Filippi. Se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.